I protagonisti del settore chiedono con forza interventi incisivi e tempestivi, capaci di dare respiro al comparto e di consentirne il rilancio e la ripresa. Il settore, quello delle costruzioni, è diremare con una nota queste parole e la consulta provinciale delle costruzioni, ente che comprende tutte le componenti del settore e della provincia, compresi alcuni ordini professionali. In tanti hanno denunciato il tragolo del sistema produttivo a cui fanno riferimento, gridando a gran voce che se salta il sistema delle costruzioni, salta l'intero sistema economico e sociale. Si sono dati appuntamento al Foro Boario per raggiungere in corteo la prefettura, dove, in un incontro a porte chiuse, una delegazione della consulta ha consegnato al prefetto Giuliana Perrotta e al direttore della Banca d'Italia Sergio Magarelli il documento unitario firmato da tutte le componenti della consulta. Il settore è a rischio a causa della crisi che ha investito le aziende, crisi causata dal ritaldo nei pagamenti da parte degli enti appaltanti e dei vincoli del patto di stabilità. L'intento è quello di attirare l'attenzione delle istituzioni e metterle di fronte alla realtà dei fatti, un settore in gravissime difficoltà. Di fronte alla prefettura, Salvatore Capone, segretario del Partito Democratico. Le procedure mai come in questo momento devono essere accelerate, perché riteniamo che comunque, insomma soprattutto le istituzioni che hanno avuto la possibilità di assumere progetti, di determinare iniziative, in questo caso, soprattutto le risorse del Cipe, ma non solo quelle del Cipe all'interno dell'intesa Stato-Regione, in questo caso, ma anche le altre iniziative e investimenti che comunque stanno sul territorio, che ricadono all'interno degli enti locali. Insomma, ci deve essere una presa di coscienza interistituzionale a vari livelli per cercare di accelerare e soprattutto mettere in circolo tutte le risorse, tenendo conto anche di un dato che ci sono questioni relative al patto di stabilità, per esempio, che bloccano anche la liquidazione di enormi risorse a favore dell'impresa. Insomma, un circolo virtuoso che bisogna riattivare per cercare di dare ossigeno a questa terra, a questo Salento, soprattutto in un momento in cui la crisi economica si tocca con mano.